E' l'ultima edizione del telegiornale di Telemolise. Buonasera e buon ascolto. Apriamo con la cronaca. Vendevano prodotti garantendo la completa guarigione dal tumore. In realtà in quei flaconi venduti anche a 15.000 euro l'uno c'era soltanto olio d'oliva e vitamina A. La truffa è stata scoperta grazie a un'indagine condotta dalla procura di Isernia di intesa con i carabinieri del NAS. Un medico e due intermediari sono stati iscritti nel registro degli indagati e sarebbero più di una decina le famiglie. Raggirate in apertura. Sergio Di Vincenzo. Quello strano liquido costava tantissimo, dai 5 ai 15.000 euro a flacone. Ai malati, soprattutto quelli terminali, veniva fatto credere che quel prodotto avrebbe fatto sparire per sempre il tumore. In realtà in quelle bottigliette vendute a peso d'oro c'era soltanto olio d'oliva e vitamina A. Ciò è stato accertato attraverso le analisi effettuate dai carabinieri del nucleo antisofisticazioni del Molise, coordinati dal comandante Antonio Forciniti. Nei confronti degli ideatori di questo raggiro, la procura di Isernia ha ipotizzato i reati di truffa aggravata, illecita commercializzazione di farmaci ed esercizio abusivo di attività medico-farmaceutica. Per ora sono iscritti nel registro degli indagati un medico di Bologna, di nazionalità siriana, specializzato in urologia, e due intermediari, probabilmente molisani, che avevano il compito di propagandare la vendita di un prodotto fasullo esaltando nelle qualità. I flaconi venivano pubblicizzati anche su internet con tanto di spiegazioni ingannevoli, sufficienti però a illudere malati gravi, che si aggrappano a tutto pur di tenere accesa la speranza di sconfiggere un male terribile come il tumore. Le indagini, ha spiegato il procuratore capo Paolo Albano durante un incontro con la stampa, hanno preso spunto dalla denuncia presentata da un cittadino di Rocchetta Volturno, fratello di una persona affetta da una grave neoplasia che purtroppo ha successivamente portato alla morte. Le verifiche hanno permesso di accertare che dietro quei finti scoop lanciati su internet, che dietro quelle boccette miracolose, si nasconde gente squallida di dubbia moralità, che approfitta della fragilità psicologica dei malati per fare soldi facili in cambio di nulla. La diffusione mediatica di questa notizia, ha detto ancora Albano, si pone l'obiettivo di evitare che altre persone finiscano vittime di questi comportamenti fraudolenti. E il servizio di Sergio Di Vincenzo che abbiamo appena visto è stato trasmesso questa sera nel Tg delle 20 di Canale 5. Mediaset si è servita infatti del filmato mandato in onda nel telegiornale di Telemolise per dedicare ampio spazio a questa notizia dell'incredibile truffa che ha danneggiato decine di poveri ammalati gravi. Restiamo alla cronaca perché i carabinieri indagano sull'esplosione avvenuta nella notte all'Eurospin di Campo Marino Lido dove una bomba rudimentale ha distrutto la vetrata all'ingresso del supermercato. Tra le ipotesi degli inquirenti spunta la pista dell'intimidazione. Sentiamo Fabrizio Chionero. Il boato nel cuore della notte è stato avvertito da alcuni residenti che abitano nei condomini a ridosso della Stadale 16. L'esplosione ha distrutto una vetrata all'ingresso dell'Eurospin di Campo Marino Lido facendo scattare l'allarme. Nessuno ha portato via nulla all'interno del supermercato, tanto che gli inquirenti hanno escluso subito l'ipotesi del tentato furto. Per terra hanno invece trovato tracce di polvere da sparo, probabile quella utilizzata per costruire una bomba carta piazzata per squarciare il vetro. Data la dinamica tra le ipotesi, i carabinieri non escludono la pista dell'intimidazione. Sono al lavoro per capire cosa ci sia di concreto dietro l'inquietante episodio che qualcuno ha bollato, anche come un atto vandalico. Difficile provarlo sulla base dei primi elementi raccolti dai militari della stazione di Campo Marino, coordinati dalla compagnia di Termoli intervenuta con il tenente Fabio Vittorini. I carabinieri hanno effettuato i rilievi e ascoltato i responsabili del supermercato, ma da quanto si è appreso negli ultimi tempi non sono stati segnalati episodi anomali, minacce o altri eventi che avrebbero fatto presagire l'accaduto. Ne sono per ora arrivate delle rivendicazioni per giustificarlo. In passato l'Eurospin di Campo Marino Lido era stato già preso di mira dai malviventi con una rapina nel 2009 e un tentativo di furto nel 2011, ma si è trattato di episodi isolati. Intanto in mattinata il supermercato ha riaperto ai clienti, che all'ingresso hanno notato gli operai al lavoro per sostituire la vetrata distrutta dalla bomba. E ora apriamo la pagina politica. Dopo il decreto di San Valentino emanato da Bettino Craxi e la riforma pensionistica del ministro Fornero, la cosiddetta scala mobile è stata eliminata per tutti. Resta invece ai consiglieri regionali e sommata a tutte le altre voci, non taglia le indennità, ma le aumenta di oltre 200 euro al mese. Sentiamo Giovanni Minicozzi. Era il 14 febbraio del 1984 quando il governo guidato dal socialista Bettino Craxi emanò il decreto di San Valentino che eliminò l'indenità integrativa speciale. Prima la cosiddetta scala mobile consentiva ai lavoratori dipendenti di recuperare l'inflazione sulle buste paga. Il provvedimento contribuì ad abbassare l'inflazione, che in quegli anni sfiorava il 15%, ma diminuì il potere di acquisto dei salari. Craxi però tenne fuori dal decreto i pensionati, che quindi continuarono a percepire gli aumenti trimestrali in rapporto al tasso di inflazione. L'anno scorso però, con la riforma varata dal ministro Elsa Fornero, la scala mobile venne eliminata anche ai pensionati, con assegno superiore ai 1.400 euro lordi mensili. La proposta di legge sui presunti tagli alle indennità dei consiglieri regionali prevede invece l'adeguamento al tasso di inflazione. Insomma, la scala mobile, eliminata a tutti i lavoratori e pensionati, resta solo per gli inquilini di Palazzo Moffa. Il tutto sommato alle diverse voci della busta paga, indennità di carica, indennità di funzione, spettante più o meno a tutti i consiglieri impegnati tra ufficio di Presidenza 5, Assessori 4, Presidenti e Vicepresidenti delle Commissioni 8, Capigruppo 14, più il rimborso spese pari a 5.500 euro netti mensili e l'indennità di buon'uscita determina a conti fatti un incremento degli stipendi di circa 200 euro al mese rispetto a quelli attuali senza considerare l'indennità per i portaborse pari a ulteriori 2.500 euro netti al mese, qualora non fosse abrogata, dunque ben 2.700 euro in più al mese per ciascun consigliere. Alla faccia dei tagli tanto sbandierati, ma dove sono coloro che per dieci anni, soprattutto durante le campagne elettorali, aggredivano la maggioranza di allora proponendo tagli di almeno il 50% alle odiose, dicevano, indennità della casta? Se ci siete ancora, battete un colpo. Noi lo verificheremo lunedì prossimo in aula nel corso dell'approvazione definitiva della legge. Il Consiglio Provinciale di Campobasso ha dato il via libera alla nascita di una commissione di studio per valutare il riordino degli enti dopo il disegno di legge costituzionale varato dal Governo. Ascoltiamo i dettagli nel servizio di Anna Maria Di Matteo. Il Governo centrale è fermamente intenzionato a percorrere fino in fondo la strada del riordino istituzionale delle province e utilizzando lo strumento del disegno di legge costituzionale per intervenire senza incorrere in ulteriori ricorsi. Nel frattempo però a Campobasso il Consiglio Provinciale, riunito questa mattina, ha istituito una commissione di studio sul riordino istituzionale degli enti. L'organismo di cui faranno parte tutte le forze politiche presenti in Consiglio Provinciale avrà la durata di sei mesi prorograbili con l'obiettivo di seguire il percorso avviato dal Governo centrale e calarlo alla realtà locale. Nel corso del dibattito in aula c'è stato chi, come il consigliere del PDL Roberto Crema, ha espresso la propria contrarietà all'iniziativa definendo l'anacronistica visto l'orientamento del Governo centrale di sopprimere gli enti intermedi. Perplessità sull'utilità dello studio che la commissione dovrà realizzare anche da parte del Presidente della provincia Rosario De Matteis. Non è dello stesso avviso Micaela Fanelli che sostiene con determinazione la commissione. Io credo che occorra invece vigilare attentamente sorvegliare e pungolare i percorsi in atto. Sappiamo bene che a livello nazionale è iniziato un percorso di completa riforma per quello che riguarda le province con una cancellazione dalla parte nel testo costituzionale e quindi richiede un'attenzione massima da parte delle istituzioni preposte. L'obiettivo di chi come me ha proposto un lavoro su questo tema è quello di seguire bene quello che succede a livello nazionale per essere capaci di proporre a livello locale in modo tempestivo e non subendolo un percorso riformatore. Sarà chiamata infatti la Regione Molise in attuazione alle disposizioni nazionali ad attuare il sistema di riordino locale. Perché quindi dunque aspettare? Credo che ci sia con la Regione la possibilità di un dialogo aperto e che quindi la provincia interessata direttamente da quelle che sono le questioni delle proprie sorti debba prendere l'iniziativa piuttosto che subirla. Piena condivisione anche dal consigliere del PDL Salvatore Collagiovanni presidente Upro Unione delle province molisane. Oggi mi sembra ridicolo parlare di province perché la gente che ci ascolta dirà ancora queste province quindi con i propri problemi che ci sono sulla sociale sul lavoro però posso garantire che le province non tutti sanno il lavoro che svolgono. Ecco perché sia con il capo dell'opposizione sia con molti esponenti di maggioranza abbiamo deciso di istituire una commissione gratuita per poter avere un confronto con la Regione Molise su alcuni svincoli di importi economici per poter far sì che perlomeno l'ordinario venga garantito. Quasi 2 milioni di euro a tanto ammonta il finanziamento erogato dalla Regione al Comune di Campobasso per realizzare progetti finalizzati a rendere più efficienti dal punto di vista energetico gli edifici e le utenze pubbliche in questo modo ha sottolineato l'assessore Cefaratti sarà possibile anche ridurre pesanti costi di gestione che gravano sui cittadini e che in un periodo di crisi come questo vanno giustamente ottimizzati e razionalizzati. Torniamo ora a parlare della fondazione Giovanni Paolo II di Campobasso i licenziamenti annunciati non incideranno sulla qualità dei servizi spiegano i vertici e allora ce ne parla Giuseppe Lanese Non si ferma il botta e risposta tra la fondazione Giovanni Paolo II di Campobasso la regione Molise e i sindacati sui 45 licenziamenti annunciati dalla struttura sanitaria dopo le critiche sollevate ieri dall'assessore regionale al lavoro Michele Petraroia oggi la replica della stessa fondazione i licenziamenti ribadiscono i vertici sono solo una conseguenza della riduzione dei posti letto da 180 a 129 ma per i responsabili della ex cattolica i tagli non mettono in discussione la qualità del servizio il rapporto è di quasi 4 dipendenti per ogni posto letto spiegano e la fondazione continua a mantenere un livello di assistenza adeguata tra l'altro ampiamente suffragato dall'attuale normativa regionale una struttura dunque che rimane a tutti gli effetti un presidio di eccellenza non solo per i Molise ma anche per le regioni limitrofe con servizi clinici di alta qualità questa la posizione della stessa cattolica resta comunque l'apertura a riassumere il personale in esubero in caso di accreditamento di nuovi posti letto e quando le condizioni lo consentiranno concludono dalla fondazione ma i sindacati sono intenzionati a proseguire la loro battaglia dopo aver rifiutato anche la proposta di un contratto di solidarietà che in cambio di stipendi ridotti per un anno avrebbe evitato i tagli al personale ha avuto un'alta adesione il quinto sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali per protestare contro la mancata sottoscrizione del contratto aziendale e gli innumerevoli problemi ancora irrisolti all'interno dell'ATM l'azienda di trasporti Molisana oltre l'80% dei lavoratori ha aderito allo sciopero fanno sapere i sindacati segno di ampia condivisione dei problemi nella prossima assemblea del personale indetta per il 21 luglio le segreterie discuteranno le nuove iniziative da intraprendere e parliamo adesso della riforma dell'articolo 416 ter del codice penale sul voto di scambio votata dalla Camera dei Deputati sentiamo in proposito le dichiarazioni del parlamentare Molisano nonché presidente del forum giustizia per il Partito Democratico Danilo Leva le istituzioni adesso sono più forti e il commento di Danilo Leva parlamentare Molisano è presidente del forum giustizia del PD dopo il voto della Camera dei Deputati sulla riforma dell'articolo 416 ter sul voto di scambio uno strumento efficace di lotta e contrasto alla criminalità organizzata ha detto con la modifica del 416 ter si va a punire lo scambio politico mafioso il procacciamento di voti in cambio non soltanto di un'erogazione di danaro ma anche di un'altra utilità questo è un passaggio fondamentale della riforma che consente una lotta alla criminalità organizzata più forte e anche più robusta per Leva si tratta di uno strumento fondamentale che mancava all'ordinamento giuridico italiano è un'innovazione legislativa importante che consentirà alla magistratura che consentirà alle forze dell'ordine di essere sicuramente più forti nei confronti della criminalità organizzata e soprattutto nei confronti di quel sistema di illegalità diffusa che molto spesso penetra le pubbliche amministrazioni Leva ha sottolineato l'impegno particolare del PD ma anche di tutte quelle forze politiche che hanno consentito l'approvazione del provvedimento una modifica voluta già da Falcone per cui si è aspettato 20 anni un segnale forte da trasmettere alle forze sane della società arrivato ha rimarcato Danilo Leva in prossimità della data di oggi in cui si ricorda la morte di Paolo Borsellino ci sono voluti 20 anni però questo Parlamento lo ha fatto in pochi mesi anche grazie soprattutto all'iniziativa del PD e adesso noi vigileremo e ci impegneremo affinché il Senato approvi in tempi altrettanto rapidi il testo in modo tale che si possa arrivare all'approvazione definitiva questo è un risultato importante che noi portiamo a casa e dopo la nomina di Sandro del Fattore a segretario regionale della CGL arrivano gli auguri di buon lavoro da parte del presidente Paolo di Laura Frattura un affettuoso benvenuto nella nostra regione in un contesto di tante oggettive difficoltà aziendali occupazionali economiche il ruolo del sindacato assume un peso ancora più determinante nella difesa dei diritti dei lavoratori ha detto ancora Frattura nella conduzione delle troppe vertenze aperte nella costruzione della speranza per i giovani cassi integrati gli esodati i disoccupati i licenziati i pensionati siamo certi che anche con il nuovo segretario manterremo un sano e duraturo rapporto di collaborazione e ora ci occupiamo di gestione dei rifiuti elettronici in Molise a Campobasso nella sede della regione infatti è stato presentato il rapporto 2012 e c'era per noi Giuseppe Lanese presentato a Campobasso il dossier sulla gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche il Molise è in controtendenza rispetto al dato nazionale e registra un aumento dei quantitativi raccolti dell'11% un dato che però nasconde ancora molte lacune per ogni abitante in Italia si recuperano 4 kg da noi solo 2,4 quindi c'è molto da lavorare e lo faremo molto lacramente e tra le varie strategie di raccolta la regione vuole puntare anche sul porta a porta una serie di ricette porta a porta con sicuramente spingerlo in ogni comune quindi organizzare un sistema di recupero dei rifiuti tale da consentire anche di smaltire adeguatamente e quindi riciclare i RAI in generale noi riorganizzeremo il servizio dall'A alla Z noi siamo molto indietro sul sistema integrato di rifiuti ma è un terreno di ritardo che recupereremo molto rapidamente e lo faremo sia in relazione ai RAI ma in relazione anche ad altri rifiuti selezionati insomma dalla carta al cartone alla plastica al vetro implementeremo le piattaforme di categoria il gap che ci vede oggi in ritardo rispetto alle altre regioni sarà abbondantemente colmato in un territorio di 300.000 abitanti dove ci sono gran parte dei comuni al di sotto dei 5.000 abitanti per ogni comune è evidente che se facciamo una buona sana programmazione organizzata mutuando anche queste best practice che vengono dal mio comune e anche da altri comuni San Felice del Molise e altri ancora sono finalmente in ordine i conti del consorzio di bonifica della Piana di Venà Frolente consortile ha rimesso a posto i propri bilanci ma guarda anche al futuro con progetti di sviluppo che puntano alla valorizzazione della risorsa acqua loro blu del Molise come lo ha definito il presidente Vittorio Nola il servizio di Enzo Di Gaetano la gestione del consorzio di bonifica targata a Nola comincia a dare i suoi frutti l'ex manager della Telecom si sta rivelando una risorsa aggiuntiva per tutta l'area del Venafrano che punta sulla gestione delle risorse idriche per rimettere a posto i conti dell'ente Vittorio Nola ha tanti progetti ascoltiamolo noi abbiamo avuto due priorità quest'anno l'avete visto siamo riusciti a risanare i conti e il bilancio è inutile proprio questo ci stimola ad andare avanti però la mia intenzione è di non avere deficit nel 2013 ecco perché ho chiesto il presidente della regione lo sa benissimo l'assessore dell'agricoltura lo stesso che il finanziamento delle opere di bonifica la regione deve fare la sua parte il consorzio di bonifica farà certamente la sua parte quindi ho già tranquillizzato i lavoratori su questo magari ci sarà qualche risparmio diciamo ma non più di questo le cose importanti invece sono accadute proprio a Roma dove abbiamo avuto la giornata nazionale della bonifica con l'assemblea dell'Ambi in quell'occasione abbiamo stipulato un aggiornamento della convenzione con l'autorità di Bacino e vi devo dire che abbiamo confermato due studi di fattibilità che riguardano l'allargamento del comprensorio a Capriati Prata-Pratella quindi mi auguro che adesso i sindaci di quelle aree comincino a fare i loro passi l'autorità di Bacino ci è vicina la seconda è quella di installare al nostro casello idraulico il laboratorio per lo studio idrogeologico a servizi tutto l'Appennino meridionale e l'ultima cosa che ho cercato di condividere anche stamattina con il nostro sindaco Sorbo è un'idea che nel frattempo ho maturato e che ho proposto a questo tavolo congiunto cioè di fare Venafro Marittima cioè creare un asse tra Venafro e Sesto Campano utilizzando l'acqua del San Bartolomeo per fare una pista di canottaggio a disposizione degli sportivi ma anche magari di creare qualche piccolo invaso su proprietà pubbliche è un'idea credo che possa agevolare il discorso che faccio da sempre cioè il nostro valore e il valore dell'acqua questo l'avete sentito al convegno che abbiamo fatto e sto insistendo su questo perché credo che non solo per Venafro ma per tutto il Molise l'acqua è quella che ci risanerà i conti porteranno circa 4 milioni e mezzo di euro nelle casse delle università italiane i test di ammissione a medicina e odontoiatria sostenerlo è scuola.net che ha reso noto che gli iscritti in tutta Italia sono 84.165 per 10.300 posti disponibili nonostante quest'anno sia stata introdotta una graduatoria nazionale osservascuola.net nelle varie università italiane si continua inspiegabilmente a pagare un prezzo diverso per il test si va dai 21 euro di Cagliari ai 100 euro di Torino e Salerno campione di risparmio l'Università del Molise che ha scontato in un anno la tariffa di ben 65 euro passando da 120 a 55 euro il rincaro record si registra invece a Messina dove si passa da 45 a 90 euro un violento nubifragio cambiamo argomento si è abbattuto questo pomeriggio su Campobasso causando allagamenti e qualche disagio al traffico in particolare i garage delle palazzine di Contrada Fontana Vecchia sono stati invasi dall'acqua che in alcuni punti ha raggiunto e superato i 30 centimetri di altezza la forte pioggia ha intasato le griglie e le tubature della rete fognaria che non sono riuscite a smaltirne il flusso allagando gli scantinati e i garage sottostanti i residenti come accade ogni volta che piove oltre a fare i conti con il cattivo odore hanno avuto il loro da fare per liberare le rimesse dall'acqua temiamo per la nostra incolumità hanno detto perché i quadri elettrici e gli ascensori sono a rischio siamo preoccupati per la tenuta della struttura hanno concluso specialmente se si verificasse un evento come il terremoto difendere e valorizzare il conservatorio Perosi di Campobasso come realtà produttiva culturale e dinamica lo ha chiesto la CGL Molise alla regione serve una risposta concreta ha detto il segretario Sorella per corrispondere ai lavoratori il salario accessorio in tempi certi purtroppo ha aggiunto gli ultimi incontri non hanno consentito di chiudere l'accordo sarebbe utile ha concluso Sorella la contrattazione integrativa oltre a individuare una struttura degna per accogliere meglio i lavoratori e gli studenti Il giudice del Tribunale di Bari ha autorizzato una donna di Termoli malata di SLA a fare ricorso alla terapia che utilizza le cellule staminali nota come cura Vannoni Si tratta del primo caso in Molise che ora va ad alimentare il dibattito internazionale sul cosiddetto metodo stamina Il servizio di Fabrizio Occhio Nero Con un'ordinanza il giudice del lavoro del Tribunale di Bari Assunta Napoliello ha autorizzato una donna di Termoli affetta da una grave malattia neurodegenerativa la SLA a fare ricorso alla terapia che utilizza le cellule staminali conosciuta come cura Vannoni Si tratta del primo caso di ricorso accolto dal magistrato per un paziente del Molise a presentarlo l'avvocato Rocco Gruosso che nell'atto ha manifestato la necessità di ricorrere alla cosiddetta cura compassionevole ovvero la possibilità di utilizzare terapie per le quali non è stata completata la fase di sperimentazione ora in sostanza il giudice ordinato agli spedali civili di Brescia di somministrare il trattamento secondo il metodo stamina una procedura non ancora riconosciuta dalla comunità internazionale che si basa sull'estrazione delle cellule staminali adulte dai pazienti nella loro incubazione e quindi nella nuova infusione delle cellule nell'organismo al fine di migliorare le condizioni di salute della persona quando ha preso dell'accoglimento totale del ricorso ha commentato il legale per un attimo gli occhi sono diventati lucidi ho pensato alla signora e alla sua famiglia per loro ha aggiunto l'avvocato Rocco Grosso è stata una grande vittoria e nonostante l'impaccio nell'articolazione della parola la signora mi ha ringraziato con tutta se stessa nelle prossime settimane la donna di Termoli saprà quando potrà raggiungere la struttura di Brescia per seguire la terapia secondo il metodo Stamina una cura al centro di polemiche prese di posizione tra chi difende il diritto alla salute e la qualità della vita del malato e chi invece giudica controverso il metodo ad agosto dopo diversi rinvii dovrebbe partire la sperimentazione ufficiale un'intesa con una società del settore energetico consentirà ai soci delle cooperative in particolare quelle che si occupano di anziani e disabili di abbattere i costi della bolletta al tempo stesso una parte del fatturato sarà investito in progetti nel sociale sentiamo Sergio Di Vincenzo da un lato si protegge l'ambiente dall'altro si dà un sostegno alle fasce sociali svantaggiate al tempo stesso si riducono i costi e questo è il senso dell'intesa firmata a Pozzieri tra Grese Energy e Conf Cooperative Molise con questa convenzione i soci beneficeranno di una serie di progetti che consentiranno di abbattere i costi della bolletta grazie all'installazione di impianti fotovoltaici e solari termici si comincia con alcune strutture della cooperativa sociale Casi che ospitano disabili e anziani la convenzione prevede inoltre l'investimento di una parte del fatturato in progetti sociali da attuare in Molise si andrà a favorire sia le cooperative ma anche i soci delle cooperative aderenti che sono circa 12.000 persone io credo che è un'opportunità che non possiamo perdere e credo che lavorando in rete si possa veramente migliorare la situazione economica e finanziaria delle nostre cooperative oltretutto all'interno di questa convenzione abbiamo previsto grazie a Grisenergia e a Enel di dedicare l'1,5% di investimenti per progetti sociali per cui è la prima volta che accade che un'impresa un grosso gruppo è interessato a fare praticamente solidarietà e questo ci creano delle grosse opportunità per aiutare quelle fasce svantaggiate che oggi vivono in stato di disagio questa iniziativa ha già consentito di creare qualche posto di lavoro e in prospettiva potrà portare benefici anche alle famiglie il messaggio che sto dando attraverso Coffre Cooperative al di là dell'aspetto sociale che ne è stato già parlato prima è quello di riuscire in qualche modo a dare messaggi alla popolazione che qualsiasi utente può essere un produttore di energia qualsiasi utente oggi come oggi può avere la possibilità di poter essere dei piccoli produttori di energia a costo quasi zero a costo quasi zero cosa vuol dire vuol dire effettivamente che riesci a pagarsi il proprio impianto nel risparmio della bolletta siamo sul territorio per dare un minimo praticamente di serenità anche a chi in momenti come questi deve investire qualche soldo che non c'è prima di chiudere c'è una notizia di servizio che ascolterete più volte nelle diverse edizioni del telegiornale perché riguarda la ricezione del segnale televisivo nella zona di Termoli e del Basso Molise lo staff tecnico di Telemolise sta infatti completando i lavori per migliorare finalmente la qualità dopo che il ministero ha riconosciuto l'enorme danno di visibilità a seguito dello switch off e con il passaggio al digitale terrestre pertanto se si dovessero verificare problemi di ricezione del segnale invitiamo semplicemente i nostri telespettatori a risintonizzare più volte il decoder termina qui l'ultima edizione del telegiornale di Telemolise ed io come sempre vi saluto ringraziandovi perché avete scelto la nostra informazione buonanotte del telegiornale Grazie a tutti.